Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Perché ti alzi al mattino on air. Io sono Jenny Fogo e qui con me oggi ho Luca Trevisan di Gelateria International e Damon Grasselli di Pharma G. Benvenuti ai nostri ospiti. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Noi Luca ci siamo conosciuti in occasione di una fiera importante, ti ricordi? Sì, perfettamente a Cosmo Pharma l'anno scorso. Ci siamo visti e abbiamo fatto un'intervista proprio verso fine della fiera e è stata comunque una bella intervista anche se abbiamo, eravamo proprio alla fine della giornata, è stata una bella giornata impegnativa, però abbiamo potuto così conoscere la vostra realtà, la realtà di Gelateria International, che di cosa si occupa Gelateria International? Si occupa di fornire alle farmacie, parafarmacie, ortopedie e sanitarie, calzature confortevoli di nuova generazione, tecnologiche per la salute e la salute delle gambe. Calzature che a differenza delle altre, che di solito si vendono in farmacia, non sono solo comode e funzionali, ma sono anche esteticamente belle. Grazie al supporto, alla partnership con l'azienda di Daemon, hanno portato avanti questo progetto e vi invito a parlarne direttamente voi. Prego Luca. Sì, intanto ti dico che è stata un'intervista importante perché è stata proiettata durante la prima convention internazionale di Gelateria International e ha avuto un grossissimo successo. quello che noi facciamo, come dicevi, è quello di distribuire calzature innovative, comode per la salute e anche belle, perché abbiamo sdoganato il fatto che le calzature che si vendono in ortopedia debbano essere per forza confortevoli e brutte e le stiamo distribuendo in tutta Italia e uno dei nostri partner di riferimento è appunto l'azienda farmaggia di Daemon. Come vi siete conosciuti, incontrati tu e Daemon? Beh, guarda, Daemon l'ho conosciuto nel suo ufficio un giorno perché abbiamo un amico in comune che ci ha sponsorizzati entrambi, lo conosciamo entrambi da una vita e mi ha detto guarda c'è un ragazzo giovane con idee innovative che può essere un partner giusto per la tua attività, per il tuo nuovo progetto, ti consiglio di andare a incontrarlo e di fatto Daemon è stato il secondo partner, se non proprio a distanza di pochi giorni dal primo, che si è unito a questo progetto che inizialmente poteva essere anche un po' azzardato o comunque troppo innovativo e ho trovato in Daemon una persona aperta di vedute che ci ha dato grosso supporto già dal principio. E quindi chiediamo anche a Daemon la tua versione dei fatti, dell'incontro e cosa ti è piaciuto innanzitutto del progetto di Luca Trevisan? Ma intanto buongiorno a tutti, già mi fa strano parlare la prima volta e è un'esperienza anche questa da fare. Ho incontrato Luca ed ero senza barba, tanto per cominciare, quindi ero la versione più giovane. Ma è stata una conoscenza molto interessante, nel senso che comunque io sono nel settore farmaceutico da parecchi anni, prima mio padre, poi ho continuato io le sorti aziendali. E cosa è successo? Che questo amico in comune mi ha chiamato e mi ha detto guarda c'è questo ragazzo che ha creato un progetto nuovo che secondo me tu potresti fare al caso suo, visto che comunque hai una struttura ben introdotta in farmacia e potresti comunque andare a promuovere un prodotto davvero particolare. E niente, ci siamo incontrati e usando un termine inglese che è chemistry ci siamo trovati a pelle, perché lui giovane, io giovane, si andava a proporre un prodotto che non c'era sul mercato, perché all'inizio quando mi ha parlato di calzature io mi sono spaventato, ho detto oddio mio non ne ho mai trattati, io sono abituato a trattare farmaco piuttosto che integratori. Invece poi io mi sono reso conto che aveva creato un prodotto che non c'era sul mercato e l'innovazione in farmacia oggi è merce rarissima. Così è stato proprio amore a prima vista, ci siamo lanciati insieme in questa progettualità che ci sta dando grosse soddisfazioni, devo essere sincero per entrambi grossissime soddisfazioni. Diciamo adesso entriamo un po' più nel merito di quella che è la comunicazione che voi utilizzate con i vostri clienti per promuovere il vostro prodotto, la vostra attività, soprattutto in questo periodo che è un po' particolare. Chiedo prima a Luca, poi anche a Damon, in che modo ti stai relazionando, vi state relazionando con i vostri clienti per mantenerli comunque attivi e anche per aumentare il numero di potenziali clienti, cioè che metodi di comunicazione state adottando? Guarda Jenny, noi non abbiamo cambiato il tipo di messaggio al nostro consumatore, nel senso che da sempre abbiamo comunicato che è importantissimo investire in salute e benessere. Anche in tempi non sospetti, prima del Covid, noi abbiamo deciso di dare un messaggio unico che è quello di acquistare un prodotto non tanto solo per l'aspetto estetico, ma perché questo prodotto crea dei benefici alla persona. È proprio per questo che abbiamo scelto come unico canale di riferimento la farmacia e il settore sanitario. Quindi noi comunichiamo sempre la stessa cosa, signori investite qualcosa in più, comprate dei prodotti che vi diano non solo un appagamento estetico, ma che vi diano soprattutto un beneficio fisico. Noi scherzando diciamo sempre che il benessere comincia dai piedi, siamo come delle piante, degli alberi che se hanno radici belle forti e sane possono crescere bene. I piedi sono un po' come le radici degli alberi, devono essere comodi, confortevoli perché portano un peso costante ogni giorno di 50, 60, 70, 80 chili e questi supportano veramente una fatica incredibile. Quindi il nostro messaggio è sempre quello, spendete qualcosa in più, andate nei canali dedicati e comprate dei prodotti che vi facciano veramente bene. Come comunichiamo? Comunichiamo fondamentalmente con dei messaggi semplici comunicando il beneficio, quindi diciamo guarda che il nostro prodotto agisce sulla circolazione, avrai le gambe più leggere, meno stanche, meno ritenzione, eccetera, eccetera. Un messaggio univoco, questo è il nostro input per il consumatore. Ecco, il vostro target principale è composto da chi? Il nostro target principale è abbastanza trasversale, nel senso che dagli ultimi dati che abbiamo apprezzano il nostro prodotto a partire da, mediamente dai 35-40 anni fino ai 70-80, quindi questa è la media forte, il grosso zoccolo è dai 30 ai 40 anni e poi via via anche tutti gli altri consumatori. Come ti dicevo, non è detto che chi compra in farmacia voglia un prodotto brutto perché nei negozi è bello e in farmacia è brutto. No, noi siamo riusciti a sposare sia la bellezza estetica con la salute, quindi il target è il 90% donna e questa è l'età di riferimento, insomma un'età media. Mi parlavi durante la nostra conversazione anche di una nuova calza, un nuovo progetto che andrà a corredare. Sì, noi abbiamo fondamentalmente un progetto nuovo, nuovissimo, che si chiama Go, Gelato Go, è fondamentalmente una calzatura che va a sostituire quello che era il vecchio zoccolo dell'infermiere o lo zoccolo per chi lavora in piedi, sai una volta ronzoccoli duri, pesanti eccetera. Questo Go è una sneaker, una sneaker bellissima di ultima generazione, super confortevole con materiali iper innovativi e corredata a questa c'è una calza che si chiama Fitness Go che bene si abbina al plantare della nostra Go che è certificata e antistatica, può essere utilizzata in ospedale ma anche in altri ambiti lavorativi, nei bar, nelle fornerie, nelle pasticcerie, per i camerieri eccetera e questa è stata lanciata proprio in tempi non sospetti, la stanno già utilizzando in tantissimi infermieri, medici, chi lavora in varie strutture e viene abbinata con questa calza, sempre con materiali molto particolari, innovativi, massaggiante eccetera. In questi progetti tu Damon come sei supportato dall'azienda Gelateria? In che modo collaborate attivamente? Vi danno una mano immagino anche per la parte di promozione? Quali sono le cose che ti danno più soddisfazione fare all'interno della collaborazione con Gelateria? Ma guarda, devo essere sincero, la collaborazione è assolutamente a 360 gradi, mi spiego nel senso con Luca spesso andiamo a interfacciarci proprio in fase di organizzazione per la nascita di un prodotto, ovviamente tutto quello che è il prodotto in sé è opera sua, dal punto di vista commerciale spesso andiamo a interfacciarci e capire che tipo di strategie, da quel punto di vista lì poi la fase successiva, vale a dire la fase di vendita, spetta a me e nel mio caso, quindi nel caso della mia struttura e più o meno penso di poter parlare a nome di tutte le strutture che trattano gelateria e che vanno a promuoverlo in farmacia, usiamo una tecnica molto molto semplice, è quella di semplicemente far provare il prodotto, nel senso che comunque i nostri più grandi tifosi, i nostri più grandi venditori sono i farmacisti ai collaboratori di farmacia, perché loro stando in piedi otto ore al giorno, nel momento che provano un prodotto che può essere dal semplice infredito piuttosto che allo zoccolo, rimangono estasiati, perché comunque mi rendo conto per chi fa un lavoro che lo porta a stare almeno otto ore in piedi, effettivamente poi nel caso di una donna alla fine giornata quando si parla di gambe stanche e gonfia, è vero, e questo è un prodotto che effettivamente chi lo prova e chi ci mette il piede sopra rimane letteralmente estasiato, quindi ripeto è una tecnica molto semplice, porti il prodotto, lo provano… Esatto, bravissimo, soprattutto nella farmacia sì, cioè nel senso mentre giusto per darti un'idea, quando comunque vai a promuovere dei prodotti in farmacia con un catalogo piuttosto che con altre tecniche di vendita, alla fine fai vedere un prodotto e questo risponde determinate caratteristiche, benissimo, mi piace, lo compro. Nel caso proprio di gelateria abbiamo adottato la tecnica di portare dietro il prodotto dicendo veramente mettici il piede sopra e capirai la differenza, proprio per evitare ogni tipo di obiezione che può essere eh ma ho visto un tipo di che costa meno, questo è un prodotto che effettivamente quando comunque ho incontrato per la prima volta Luca, il nostro amico comune mi ha detto guarda non è una non è una calzatura, è un'altra cosa ed effettivamente si può parlare di un plantare messo sotto forma di infradito piuttosto che zoccolo. Ma possiamo citarlo questo vostro amico in comune visto che è quello che ha creato il legame con voi, mi fa piacere. Certo, tra l'altro è anche mio vicino di casa, io abito a Recco, quindi siamo tutte e due che guardiamo il mare, si chiama Danilo Pesce quindi con sommo piacere lo nomino e lo ringrazio perché è una persona di cui ho totale stima, ripeto ci siamo conosciuti in ambito lavorativo e godiamo entrambi di estrema fiducia reciproca. Quindi adesso i progetti prossimi che avete nel momento in cui si ripartirà però da quello che mi dicevi anche tu Luca alla fine non vi siete mai fermati. Allora come sviluppo prodotto, sviluppo strategia, marketing e come vicinanza al punto vendita, al farmacista che è il nostro interlocutore principale piuttosto che ai nostri concessionari come Daemon o tanti altri, questa attività non è mai cessata. Fondamentalmente noi cerchiamo di creare un progetto nuovo ogni qualche mese e non ci fermiamo mai e soprattutto quello che ci riconosce il mercato è anche una grossissima fidelizzazione da parte del consumatore. In questi giorni di chiusura, noi siamo a Brescia quindi le aziende sono state chiuse per parecchi giorni, io abitando vicino all'ufficio ero sempre in ufficio e rispondevo ai nostri consumatori, al consumatore fidale. Ti devo dire che sono stato molto sorpreso del fatto che i consumatori ci aspettano, ci vogliono, ci chiamavano perché non trovavano delle farmacie di riferimento che avessero il prodotto perché abbiamo interrotto un po' le consegne in tante zone d'Italia e ci chiedevano se potevamo spedire il prodotto noi, ci dicevano che senza il prodotto non avevano altre calzature da mettersi perché queste erano veramente comode. Quindi noi siamo sempre stati vicini ai concessionari, alle farmacie e anche ai nostri clienti finali. Ma che bella cosa, avere questo riscontro da parte del tuo mercato, da parte del vostro mercato, il fatto che non vi tradiscono vuol dire che siete riusciti a offrire alle persone veramente una soluzione importante ad un'esigenza ben sentita. Quindi complimenti, complimenti per la vostra comunque capacità di innovare e di provare di esserci, nonostante che insomma in Italia fare impresa non è sempre così facile, però anche voi ci insegnate che insomma perseverando e credendo in ciò che si fa si può veramente fare la differenza. Quindi adesso noi ci piace parlare degli imprenditori perché il format perché ti alzi al mattino nasce proprio per questo, per dare valore a chi crea valore. Noi già un anno fa quando ci siamo conosciuti Luca, ti avevamo fatto una domanda particolare alla fine dell'intervista che credo che tu te la ricorda, dopo comunque te la richiederò. Questo è lo scopo del format, poter dimostrare alle persone che oltre all'imprenditore c'è una persona, una persona che ogni giorno affronta delle sfide, affronta delle difficoltà che è un eroe tante volte anche silenzioso della nostra società e quindi noi siamo qui per fare questo. Ovviamente poi occupandoci di cinema d'azienda è quasi obbligatorio per noi farvi una domanda un po' particolare che esula dal vostro contesto ma entra più nel nostro. Parto da Luca e poi sento anche Damon. Luca se la tua azienda fosse un film, tu che personaggio saresti? La stessa domanda dopo, cioè è fatta anche a Damon, rispondi pure dopo a Damon. Guarda, la prima cosa che mi viene da pensare non è un film ma è un cartoon, se vale la risposta. Io mi sento un po' di avere lo spirito di Willy Coyote che come diceva una canzone di Finardi, cade ma non molla mai e soprattutto io sono affascinato da questo film, da questo cartoon per l'inventiva di Willy Coyote perché io vedo Bip Bip come un mercato che è il mercato di oggi in continuo movimento velocissimo e tu ti devi inventare il razzo sulla schiena, la galleria finta, piuttosto che qualsiasi marchi ingegno per riuscire a prendere questo mercato e il mercato si muove talmente veloce tu non lo acchiappi mai, però devi avere sempre un'idea nuova, un'innovazione eccetera. Io sono sempre stato affascinato da sto Willy Coyote che ha trovato sempre delle soluzioni particolari e nonostante non sia mai riuscito a acchiappare Bip Bip, lui non ha mai mollato, quindi io mi sento un po' così nella mia storia del mercato. Interessante questa cosa, adesso penserò al mercato come a qualcosa che fa Bip Bip, però è vero che corre sempre alla velocità della luce, grande, bellissima. E te Damon? Bella domanda, allora guarda, mi fa ridere perché comunque mi metto qui a riflettere e riuscendo a abbinare il lavoro e tutto. Io ho giocato a calcio tutta la vita, ho sempre amato lo sport e quindi mi verrebbe da dire un film, tra l'altro colgandomi a questo film, che non so se in molti abbiano visto, che è imbattibile se non sbaglio, si intitola qualcosa del genere, che è con Mark Wahlberg, che racconta la storia di questo giocatore di football americano, italo-americano che si chiama Vince Papale. E niente, la rivedo perché comunque questo è un giocatore che è venuto fuori da adulto, quindi da grande, è emerso nella categoria di professionisti da ultra trentenne e allora mi ci rivedo un po' nel senso che comunque ogni situazione può dare un'opportunità e che quindi i giochi non sono mai fatti, perché anche… Non sono mai fatti, ci si può sempre evolvere, ci si deve sempre evolvere. Per forza, perché anche nella situazione, devo essere sincero, del coronavirus, che è una situazione drammatica in tutto il paese, comunque c'è la possibilità di riuscire a continuare magari chi riesce a lavorare, a supportare anche i propri clienti, quindi darsi una mano a vicenda, perché ripeto, oggi io credo ancora tanto nel rapporto umano, tantissimo, anche se oramai la tecnologia ci sta portando a acquisti online e tutto, però il rapporto umano ancora vale, vale tanto, in particolare in Italia. Sono perfettamente d'accordo, sono perfettamente d'accordo anche perché è un po' l'altro scopo di questo nostro format, far sì che si recuperino relazioni di fiducia, si dimostri che, come dico spesso, ormai questa frase esce dalle orecchie ai miei colleghi, che comunque anche nell'epoca più digitalizzata della storia, le persone comunque continuano ad acquistare dalle persone. Se le cose poi funzionano è perché proprio c'è stata quell'intesa, quello idem sentire che ha portato le persone a fare grandi cose. Quindi adesso arriviamo alla domanda chiave della nostra rubrica, Luca te la rifaccio perché è un altro contesto e comunque è stato un anno, magari sono cambiate delle cose e poi anche Damon perché ti alzi al mattino. Guarda, è cambiata un po' la mia risposta, nel senso che un anno fa ti dissi che io mi alzavo volentieri la mattina per fare ciò che amo, andare a lavorare, trovare la mia azienda, le mie persone, i miei clienti, eccetera, eccetera, questo mi dava una grossissima forza. Questo non è cambiato, nel senso che amo sempre il mio lavoro, amo sempre i miei dipendenti, i miei collaboratori, i miei concessionari, il mio prodotto, il mio marchio, tutto. Però ti devo dire che oggi a distanza di un anno io mi sveglio volentieri la mattina, ogni singola mattina, perché poco dopo che mi alzo io si sveglia la mia bambina che ha 16 mesi e ogni singola mattina mi accoglie con un sorriso meraviglioso, sempre mi accoglie con un sorriso meraviglioso e questo mi dà la forza e la positività per affrontare la giornata intera. Può succedere qualunque cosa, ma io nei miei occhi ho il sorriso della mia bambina e io mi alzo per quello, oggi mi alzo per quello. Comunque Luca, per quello che ti ho potuto conoscere sei comunque una persona molto positiva e solare, quindi sei capace di trarre veramente il meglio dalle cose della vita, quindi complimenti e continuo così, rimani così perché alla fine sono le piccole cose che fanno le grandi differenze, posto che non è una piccola cosa il sorriso della propria bambina chiaramente, però è un sorriso, dona chi lo riceve senza impoverire chi lo dà. E Damon, e te? Allora, la domanda è meravigliosa, mi credi? Mi piace un sacco e avete un'ora, due ore e posso parlare perché questa domanda mi piace e ti rispondo con sommo piacere dicendo mi sveglia la mattina da, è un anno più o meno che ho iniziato un percorso mio meditativo nel senso che io mi sveglio la mattina alle 5 e mezza, alle 5 e mezza medito quella mezz'oretta o sto imparando perlomeno, ci sto provando, mi sveglio felice, mi sveglio felice perché la vita è bella, perché la vita è bella consapevole che non siamo eterni, quindi cerco di godermi ogni giorno, ogni giorno che passa io cerco di godermelo, nelle situazioni difficili che ci possono essere, però mi sveglio felice. Altro aspetto non da poco è quello che secondo me veramente bisogna cercare di sforzarsi tutti e pensare che non essendo eterni bisogna cercare di godersi ogni giorno, cercare di godersi ogni giorno perché abbiamo un dono enorme che è quello della vita, per cui il lavoro è importante, però anche lì ho lavorato su me stesso e ho fatto sì che per me il lavoro è uno strumento, non è un fine, quindi è uno strumento che mi permette di vivere bene, di avere del tempo per me, di avere del tempo per dedicare i miei cari e quindi ti dico sì mi piace, mi sveglio felice alla mattina, mi sveglio felice e contento con la gioia di vivere. Grazie Damon, grazie anche a te veramente, si dice che i simili si attraggono e effettivamente avete molte cose in comune con Luca, comunque è la gioia di vivere che magari anche in questo momento altri colleghi non hanno, quindi lasciamo loro un messaggio positivo e sperando che possano anche loro ritrovare e riscoprire il piacere di fare impresa nonostante tutto invece che anche se e dare insomma anche a loro quella carica di positività che ci avete trasmesso entrambi. Gianni posso aggiungere una cosa? Prego, prego. No, volevo aggiungere una cosa importante su cui ho ragionato un sacco, nei 40 giorni che sono rimasto tra virgolette chiuso in casa sono stato con mia figlia, io ho una figlia che ha 18 anni, al contrario di Luca che ne ha una bambina piccola, io ho una figlia di 18 anni e mi sono trovato con lei 18enne per 40 giorni, era un periodo drammatico, un periodo difficile sicuramente, però non tornerà mai più ed è stato per me un periodo invece meraviglioso, perché i 40 giorni che ho passato con mia figlia senza telefonini, senza distrazione di correre al lavoro e tutto, non hanno prezzo, quindi io spero che un po' tutti alla fine quando ritorneranno a lavorare e a riprendere la loro vita frenetica possano pensare un secondino indietro e dire certo che abbiamo avuto dei momenti di condivisione dai robelli. Che non si poteva fare diversamente se le cose non si fossero fermate, quindi grazie, grazie mille. Luca? Guarda, anch'io come Damon ho cercato di trarre il meglio da questo momento di stop, anch'io ho lavorato molto su me stesso, ho letto molto, ho studiato, mi sono aggiornato e di fatto mia figlia non è andata all'asilo nido, quindi nella drammaticità di tutti gli eventi qua attorno a noi, soprattutto qua a Brescia nella nostra zona, io mi sono stretto attorno alla mia famiglia, mi sono stretto alla mia figlia e ho cercato di trarre il meglio da questo momento che sicuramente ci insegnerà qualcosa e come ha detto Damon ci insegnerà molto ad apprezzare anche le piccole cose, anche solo uscire a fare una passeggiata, anche solamente a salutare un amico, abbracciarlo, a dargli una mano, quindi in questo momento drammatico dobbiamo portarci via un qualcosa di positivo e io me lo porterò per tutta la vita. Sicuramente, ebbene vi ringrazio, vi ringrazio Luca, vi ringrazio Damon e spero che questo messaggio positivo arrivi a più persone che rimangano influenzati della positività che si è creata in questa puntata. Di nuovo vi ringrazio, spero ci saranno altre occasioni di incontrarsi, anche magari dal vivo, quanto prima, però intanto è stato un piacere Damon conoscerti, Luca ritrovarti e fra un anno ti richiederò nuovamente perché ti alzi al mattino, Luca cambierà ancora, un'evoluzione continua, d'altra parte è così la vita. Grazie a tutti e alla prossima occasione. Un saluto, grazie, ciao ciao.